Allora io parto, mi raccomando ricordati quello che ti ho detto, la gatta, la gatta tu sai ci tengo più la vita mia, la gatta deve mangiare 5 volte al giorno e la pulizia, la pulizia è più importante non mangiare, pulizia. Non ti preoccupare, deve mangiare 5 volte al giorno e la pulizia. Non ti preoccupare, non mi fa guai. Quando torna? Tra 10 giorni sto qua. Ciao Francia. Mi raccomando, non mi fa guai. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, ti ha mangiare 5 volte al giorno e la pulizia. E allora, tutto bene? Tutto a posto? Insomma. La gatta, come sta la gatta? La gatta è morta. È morta la gatta? È morta la gatta. Ma non ho visto, disgraziato perché non hai fatto come dicevo io. Te lo giuro, un coppa all'anima e mia mamma ho fatto tutto quello che hai detto. L'hai fatta mangiare 5 volte al giorno? Bravo, 5 volte al giorno l'ho fatta mangiare e 5 volte al giorno la lavavo, mi aggredono con l'acqua fredda, con l'acqua capra, sciamba, acqua fredda, acqua capra, sciamba. L'animale, i gatti non si lavano, quello perciò è morto, non si mettono nell'acqua. Uè, chi l'ho fatto non è morto quando l'ho lavata, no? È morto quando lo so giusto mi spremme.